Non sarai mai leggenda perché in noi vivrai in eterno. Così si legge nello striscione tenuto dai tifosi dell'Olbia fuori dalla chiesa della Sacra Famiglia durante l'ultimo saluto al capo degli Ultras, Giuseppe Cozzolino. Una folle immensa si è radunata martedì 20 agosto nel piazzale della chiesa per dire addio ad un amico scomparso improvvisamente. L'uomo che aveva 65 anni ha perso la vita lo scorso 15 agosto lungo la strada provinciale 24 che collega Olbia all'Oiri. Cozzolino si trovava a bordo della sua Opel quando per causa ancora da stabilire si è scontratto frontalmente con una Range Rover. Per il 65enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Una notizia che in poco tempo ha fatto il giro della città e non solo, portando grande dolore. Giuseppe Cozzolino era un uomo ben voluto e apprezzato, lo si è visto durante l'ultimo saluto. Una chiesa, quella della Sacra Famiglia, che non è riuscita a contenere tutti gli amici e conoscenti presenti alla cerimonia. Il feretro è stato accolto da applausi, cuori, striscioni e fumogeni. Una funzione religiosa celebrata da Don Andrea Raffatellu, che ha ricordato Giuseppe Cozzolino come una persona generosa, simpatica, una guida per tutti. Sulla bara sono state adagiate dediche e magliette, ovviamente anche quella della sua Olbia. Al termine della celebrazione il corteo ha proseguito a piedi lungo via Roma per giungere allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, dove è stato reso l'ultimo toccante omaggio. Giuseppe! Giuseppe!